Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Vietpayu e oggi siamo qui con un nuovo video della nostra sezione SHOPPING! Sì ragazzi, questo video è in collaborazione come quello precedente che abbiamo già pubblicato mi raccomando se non l'avete visto andatelo a vedere, vi lasceremo il link qua sotto così poi alla fine del video potete andare a cliccare e vedrete anche quello lì che mi è piaciuto molto no aspetta un attimino questo video è in collaborazione con il sito cndirect.com www.cndirect.com anche il link di questo sito no Pippo non lo scrivo ancora anche il link di questo sito ve lo lasceremo qua sotto mi raccomando andatelo a vedere, ha dei prodotti bellissimi di varie categorie dall'abbigliamento quindi dai vestiti ai giochi cioè veramente un po' di tutto ok molto molto carine e questo sito appunto ci ha voluto omaggiare, li ringraziamo moltissimo ma di un prodottino che noi sappiamo però adesso non ve lo diciamo ancora, lo vedremo dopo è un nuovissimo prodotto ed è anche un po' particolare quindi già ci piace aspetta no no no, non aprirlo ancora guarda un bucone non aprirlo e quindi qua sotto inoltre vi lasceremo il link di questo nuovissimo prodotto così basta che cliccate e potete appunto acquistarlo anche voi potete vedere un po' com'è più nel dettaglio e inoltre avrete un buono sconto cioè qua sotto vi lasceremo un codice sconto sempre qua sotto nel nipo box con il quale avrete il 12% di sconto sul vostro acquisto appunto su questo sito quindi mi raccomando andate a curiosare su questo fantastico sito cn direct che ha delle cose bellissime veramente e comprate anche voi qualcosina allora io direi subito di togliere e vedere un po' cosa c'è allora vediamo un pochino eccole wow tre ok non ce ne sono così tanti allora punto come potete vedere sono delle scatoline ma cosa sono in verità? no vai pipa apriamole no 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 sono molto molto contenti allora aspetta aspetta pipa che è un po' delicato no non si apre vai si toglie quello lì intanto io apro gli altri si chiamano fidget cube praticamente sono dei cubi eccolo qui pipa non ha già tirato fuori uno particolari perché servono soprattutto nelle quando siete ad esempio stressati che siete tornati appena da scuola e avete bisogno un po' di rilassarvi di riposarvi un po' prendete questi cubi in mano che hanno dei giochini ogni faccia del cubo ha un giochino diverso e appunto vi rilasserete in un modo fantastico noi naturalmente non ci abbiamo ancora provato ci proveremo dopo insieme a voi perché io andrò dall'altra parte della telecamera per farveli vedere vale dai da vicino allora ok quindi adesso li togliamo tutti e poi io vado dietro naturalmente ce ne sono di varie di varie di vari colori vai pipa oh mamma si lo ha strappato direttamente naturalmente e quindi appunto vi dicevo prima sono particolari vero pipa? si si che belli poi piccolini quindi sono anche tascabili potete portarli dove più vi pare e naturalmente sul sito visto che ci sono tantissimi tantissimi colori potete scegliere quello che più vi piace quello che più vi rappresenta ok quindi abbiamo trovato questi tre cubi aspettate un po' facciamo già un po' vedere aspettate così allora aspettate primo cubetto nero e verde poi bianco e nero e infine questo grigio possiamo dire grigietto e rosso ok adesso io andrò dietro alla telecamera e cosa faremo Pippo? gli faremo? vedere bravissimo vedere più da vicino ti piacciono? si si già mi sta un po' provando a giocare ok andiamo sono bellissime sono morbidi bravissimo Pippo sto appunto vedendo che le ho toccate e ho notato che sono morbidi anche io le ho un po' provate e sono veramente morbidi aspetta Pippo adesso li dobbiamo far vedere più da vicino allora questo qua è il primo quello nero e verde allora come potete vedere appunto ha sulle facce un giochino da fare anti stress comunque per rilassarsi ed è appunto un giochino un po' particolare allora praticamente qua c'è questa cosa che fa così si bravissimo poi qua c'è questa sfera si una sfera di come una calamita che gira poi vabbè sono una calamita penso che si attacca prova a far attaccare no ok ok poi Pippo quale altro giochino c'è? questo qua abbiamo fatto vedere questo qui poi questo la pallina mettete più qui più qui ok si poi appunto c'è questa pallina poi ci sono questi come ingranaggi fai girare Pippo si eccoli qua che girano fanno questo rumore rilassante poi queste patte ci sono ci sono dei pallini ecco 5 bravo da tutti da schiacciare e poi questa qua vi potete spegnere la commenta sì questo qui come interruttore della luce quindi ricapitolando questo qui che va sui giù l'interruttore della luce questi qui che girano questi come ingranaggi e la pallina poi appunto questi pallini tutti che si girano che si schiacciano sentite aspetta Pippo eccolo qui e poi c'è questo qui che si muove e gira potete vedere guardate si gira tutto bellissimo e poi gli altri naturalmente sono uguali cosa? questo qua è una bella mia ecco ma c'è guardate se ce la faccio poi sta ah Pippo vuole fare una torre di cubi vediamo un po' bravissimo sì comunque c'è ragazzi sono bellissimi sono molto molto divertenti e rilassanti quindi mi raccomando portateli anche voi nel vostro zaino nella vostra borsetta quindi sono anche tascabili e appunto sono comodi da portare e poi per giocare sono bellissimi poi appunto gli stessi giochini ci sono anche sugli altri due cubi quindi questo qui bianco e nero e poi su questo qui grigio e rosso sì grigio rosso nero un po' di colori cioè bellissimo wow allora ragazzi abbiamo provato anche questo booklet ecco eccolo qui dove presenta appunto tutti i giochini che vi abbiamo già fatto vedere prima appunto c'è scritto che c'è una parte questa qui che si chiama brief si può dire così comunque questa parte qui che fa pum sparire l'ansia l'agitazione poi invece questa parte sì si chiama roll perché appunto bisogna rollare tutti questi ingranaggi poi questo qui spin questa parte dove gira poi click appunto tutti e cinque pulsantini che piacciono molto Pippo vero? i pulsantini sì poi c'è questo qui glide e poi flip questo qui simile all'interruttore della luce quindi è molto carino perché ci sono appunto anche dice come bisogna giocare con le varie facce vero Pippo? ecco qui tutti i nostri cubi bravissimo Pippo quindi eccoli qui Pippo la voluti mettere qua sul sul un elettino su questo tastino che va su e giù e ah inoltre ragazzi ci siamo dimenticati di dirvi che sulla stessa faccia quella monocolore ha come un un piccolo solco dove appunto è morbido uno striscia il dito prova Pippo ah è rilassante vero? va bene ci rilassiamo ok quindi adesso finiamo questo video poi andiamo a rilassarci con questi bellissimi cubi quindi mi raccomando andate anche voi sul sito cn direct scusate bravo andate anche voi sul sito e acquistate assolutamente questi cubi o comunque altre cosine anche che ci sono su questo meraviglioso sito veramente vi lasceremo tutti ok vi lasceremo tutti i link qua sotto quindi andate a curiosare quindi se è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su basta no iscrivete al nostro canale così vi avevo tanti altri video condividete questo video e vostri amici e ci sono e ti estra 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 bombo bombo perché guardate adesso è la mia fatica è caduta grazie grazie male ok bravissimi bravissima Pippo lasciateci bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo vi mandiamo un bacio enorme mando un bacio a Pippo e quindi saluti da Tina e Pippo e Ricciardo sono io ciao